Il compressore nelle pompe di calore. Oggi vediamo questo componente fondamentale, il cuore del sistema, per poter riscaldare a casa senza gas. Se l'avrai ancora fatto, iscriviti al mio canale YouTube e clicca sulla campana a fianco, così da ricevere in anteprima tutti i miei prossimi video. Ciao! Oggi vediamo un componente fondamentale delle pompe di calore, cioè il compressore. Come vedi, nello schema frigorifero è adicente, perché è il cuore del sistema. È quello che vi permette di comprimere il gas, mandarne su la pressione, quindi aumentare la pressione e ovviamente la temperatura. Più il gas è caldo e più riusciremo a riscaldare l'acqua per riscaldare casa o per l'acqua calda sanitaria. Prima però lascia che mi presenti, io sono Samuel e aiuto le famiglie a vivere senza gas, cioè trasformiamo le case in 100% elettriche, stacchiamo proprio il contattore, non ti arriva più la voletta del gas. Non lo faccio io direttamente, lo faccio attraverso una rete di installatori partner, sigillo sicuro. E se anche tu vuoi farlo, quindi se anche tu vuoi staccarti per sempre dai gas, vai nel link qui sopra o nella descrizione del video. Oggi, come ti dicevo, vediamo il compressore. In questo caso è un compressore esempio, perché è vero che trovi magari nei frigoriferi, no? Il compressore comprime il gas che gira all'interno del circuito frigorifero, comprimendolo, sale la pressione e sale la temperatura. Qui, attraverso lo scambiatore a piastra, poi riscaldo l'acqua. E' quello che mi interessa, scaldare l'acqua naturalmente per la casa. Bene, adesso andiamo ad aprire un compressore e capiamo com'è fatto al suo interno. Due passaggi chiaro. Il gas arriva dall'evaporatore, questo è l'evaporatore, quindi la batteria è fredda. Questa è la batteria, ad esempio, della tua unità esterna, compatitona esternamente a questa batteria che ghiaccia d'inverno, va in umbrinamento. E il gas arriva freddo, qui, e a bassa pressione. Per poi entrare nel compressore, essere centrifugato, vediamo dopo come, attraverso una chiocciola, viene compresso e naturalmente riscaldato, perché più aumenta la pressione, più viene riscaldato. Vediamo allora all'interno di un compressore come è fatto. Questo è un componente fondamentale per la pompa di ferroio. Allora, questo è un compressore che trovi anche nel frigorifero, giusto per darti un'idea. E questa è la tecnologia al suo interno. Ma quello che ci tengo a farti vedere oggi è questo tipo di compressore. Compressore tipo scroll. All'interno ha una tecnologia fantastica, è molto robusto. Questo pesa un sacco di chili. È veramente pesante. E all'interno abbiamo dell'olio. Qui all'interno c'è dell'olio che permette di lubrificare. Il motore che fa girare tutto è qua sotto. Nei compressori di nuove tecnologie c'è una piccola pompetta meccanica che viene realizzata con il motore stesso del compressore, che mi permette anche di prendere un po' di olio per lubrificare sopra la chioccia. Però questi sono dei motori molto performanti, dei compressori scusa, molto performanti, che vengono utilizzati soprattutto nelle pompe di calore professionali. Acquista Vivere Senza Gas, il libro fondamentale per la famiglia, che vuole trasformare la propria casa in 100% elettrica e dire per sempre addio alle bollette del gas. Qui abbiamo, come nel circuito frigo che abbiamo visto, l'arrivo del gas dell'aeroporatore. Quindi gas a bassa prensione. Quindi considera che qui arriva gas, entra nella camera, entra nella chioccia, che lei girando cambia continuamente la posizione e dà delle camere molto larghe, come puoi vedere, all'inizio ci sono camere molto larghe che poi piano piano vengono ristrette e ristringendole naturalmente il gas viene compresso. Più la camera è stretta, più comprimo il gas e salvi pressione. fino a che arriva al centro e poi dal centro esce attraverso questo passaggio, attraverso l'uscita. Qui all'uscita abbiamo gas molto caldo e ad altissima pressione. Considera che qui c'è un attrito straordinario tra le chiocciole, che continuano in maniera velocissima, migliaia di giri al minuto, quindi migliaia di volte ogni minuto, loro sono in completo attrito. E come vengono lubrificate? Beh, l'olio che gira attraverso il gas refrigerante, piccole goccioline d'olio, permettono di lubrificare. Ecco che abbiamo parlato in un altro video del filtro. È fondamentale il filtro d'idratatore che abbiamo visto nel circuito frigo lì sotto, perché un po' di sporcizia o un po' di umidità qui all'interno, dove abbiamo pressioni altissime, temperature altissime, molto a titolo, potrebbe comprometterne l'utilizzo del compressore stesso e poi devi buttar via tutto. Qui non puoi sostituire un piccolo componente. Qui se si rompe qualcosa, prendi e lo butti al ferro vecchio. Peccato che però costa un bel po' di soldi. Perché anche solo graffiare una piccola chiocciola, quindi avere un piccolo graffio, è come grippare il motore della tua auto. Quindi non abbiamo più quella tenuta stagna tra una chiocciola e l'altra e questo compromette anche il livello di pressione raggiunto. Ecco, finalmente abbiamo trovato e abbiamo avuto la possibilità di tagliare un compressore per farti vedere al suo interno come è fatto realmente e quello che succede e qual è la tecnologia straordinaria che c'è al suo interno. Ovviamente produttori di compressore come questo, stiamo parlando di Copland, quindi produttore americano che fanno solo compressore da una vita, riescono ad avere livelli di tecnologia straordinari che magari difficilmente trovi in altri prodotti più commerciali. Bene, spero di averti chiarito e comunque tolto qualche curiosità sul compressore delle pompe di calore e se anche tu vuoi trasformare la tua casa in 100% elettrica vai nel link qui sopra o nel link che trovi in descrizione del video. Alla prossima! Alla prossima! Alla prossima!